Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio rotto gloria modalità Dream Team di Football 2024, ma soprattutto per farci una domanda. Il gameplay, anche visto l'aggiornamento che c'è stato nella giornata di ieri, fa schifo? Lo so, lo so, nell'aggiornamento di ieri non ci sono presenti modifiche, non c'è una lista delle modifiche. Ma lo sappiamo bene, tante volte Konami, anche se non mette la lista delle modifiche, modifica comunque il gameplay. Quindi quest'oggi lo toccheremo con mano, perché io ancora non ho giocato. Appunto per renderci conto se fa schifo, non fa schifo, se è bello, se è brutto, insomma, se ci piace questo gameplay oppure no. Prima di andare avanti iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like. Almeno 100 mi piace per questo video, mi raccomando, supportatemi e domani vi pubblicherò subito un nuovo episodio. Inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame, trovate i social per contattarmi in descrizione. E vi lascio anche il link nel mio gruppo Telegram dedicato ai football nel commento fissato in alto. Siamo quasi 1500 e vogliamo essere sempre di più, quindi vi aspettiamo numerosi. E niente ragazzi, lo sappiamo, ieri è arrivato il nuovo aggiornamento. Un aggiornamento che non presenta, almeno a livello teorico, modifiche nel gameplay, ma siamo qui per saggiare con mano, come già ho detto. Quindi andiamo a cercare il primo avversario. Siccome io ho fatto la domanda, non so se vi ricordate, nello scorso episodio, preferite squadra free, completamente presa con i GP e andiamo in prima così? Oppure ranchiamo con la squadra epica nel tentativo di battere il mio record, ovvero la posizione numero 350 al mondo? Avete scelto per netta maggioranza, sentiamo, maggiorenza stavo dicendo. Comunque siete stati tanti di più a dire, no, ranca con i giocatori epici. Quindi giocatori epici. Nella prossima fase faremo la divisione 1 con i GP. Non vi preoccupate che accontento in ogni caso tutte e due le fazioni. Avversario trovato, regà, mi vado ovviamente a coprire gli occhi per non farmi, anzi no, che cacchio me li copro a fare? Sono in divisione 4, ma la faccio sempre sta scenetta, eh, regà. Incredibile. Ah, Laurenzis, regà, questo è un top, eh. Da quel che ricordo è un top, forse ricordo male però, però il nome già l'ho sentito. Allora, noi rimaniamo così, questo è il team dell'avversario e andiamo in campo. Ora ragazzi, siamo in campo, prima partita dell'episodio. Devo mettere in pausa un secondo che qua non esce l'audio, a me senza audio mi dà fastidio. Non esce l'audio, è solo un po' basso. Sì, è un po' basso. Ok. Dicevo, siamo in campo, non sarà una partita facile perché questo nome già l'ho sentito. Cioè, se non sbaglio è un top, regà. Però, vediamo un po', magari mi sbaglio, eh. Può darsi pure solo che lo conosco. Scusate se sentite rumori di trapano, martelli, ci sono i lavori nel palazzo di fronte. Oh, che fai? Tutto a posto, frate? Forse non gli ha preso il supercance. Probabilmente, dai. Ah. Madonna, che fastidio sto rumore di martelli, trapani, spade, scimitarre. Mo' devo chiudere la finestra. Intanto fa caldo. Ma non fa abbastanza caldo da accendere il condizionatore, chiaramente. Non me l'aspettavo il tiro d'esterno da là. No. Allora. Allora. tira mannaggia ho pure Valentino Rossa da passare tutti i rumori sta sbattendo le uova non so se sentite non lo so se lo sentite però io sto sentendo di tutto come ne è uscito benissimo dai dai siamo riusciti a contenerlo grazie angolo che dovevo fare dovevo tirare sicuro me la ribatteva grazie ma sempre in angolo la butta perché la butta in angolo ma veramente se parla dai ma che passaggio è io la volevo dare tranquillamente al digno caocio no non mi ha fatto tirare non mi ha fatto tirare mannaggia rigioco finisce il primo tempo e chiudo la finestra perché non ce la faccio più con questo rumore primo tempo chiudo la finestra eccoci qua andiamo al secondo tempo dai manca un tiro abbiamo fatto eh tirato solo lui è forte è forte raga allora mo switchiamo il modulo secondario perché non arriviamo in porta non arriviamo in porta tra l'altro lui ha una squadra inferiore eh raga bisogna dirlo soprattutto a livello difensivo credo che siano tutti giocatori gratuiti e cruif l'ha sculato sicuramente vabbè comunque player of the week vabbè la val presi con le monete gratuiti raga certo che la prima partita del giorno già impegnarsi non è bellissimo fuori gioco fuori gioco ma nemmeno un filtrante mi passa eh raga nemmeno uno proprio c'ha una difesa che non è una difesa è un un camion davanti alla difesa grazie a tutti Ma perché sono lenti Sono proprio lenti Sono lenti i movimenti dei giocatori Madonna Sto provando cose un po' diverse Perché ho visto che non passo Eh mo No Ragazzi si è frizzato Vi rendete conto Io ho fatto per tirare e non ha tirato Vi rendete conto Ma perché a me devono fare così Perché Per quale motivo Per quale cacchio di motivo La mia squadra deve fare così Grazie Grazie Ma vai vai Fammi rimettere il primario Vai Che non gira manco per niente Non gira Né uno né l'altro Non girano Non riesco a far un passaggio Che cavolo Ah È la sua difesa Che mi mette in difficoltà Perché difende in una maniera perfetta Perfetta Mi ha annullato completamente Il mio modo di attaccare Completamente Poi è vero pure a me Che si è frizzato Neymar Allora l'unica Ocasione che va avuta La batteria Scarica Solo quello ci manca Ok Non si sta mettendo così Lui Vamos Attacca giusta Ammazza Io voglio Attacca su Mi è una bella Un'ora e mezza Ma ragazzi Vabbè Dai Vabbè Finita Mi vado Avversario trovato Vediamo un po' Chi ci dà Questa volta Mi sembra di non conoscerlo Allora Questo è il nostro team Questa è il nostro team Questa è la squadra Con le 12 Non ho visto bene Ma credo di sì È forte questo È bravo 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 Pazza neymar immobile Tacci tua Eh vabbè Dai Dai Vali ste cose Stiamoci col secondario Che già ho visto Che questo non gira Manco per niente Che già ho visto Mamma mia Ma è un mago Delle due Eh raga Davvero difficile Passare da questa difesa Anche Mamma mia Con che semplicità Fa le cose Raga Si gira E gli riesce Dribbla E gli riesce Fa il passaggio E gli riesce È la semplicità Raga Quando ti gira È così No a me Non vanno Gli intercetti Le L2 Non funziona Eh vabbè Eh vabbè raga È senza falli No regole No regole Senza falli Ragazzi È senza falli C'è sempre lui È solo questione Di tempo Ma me lo fa il gol Eccolo Lo sapevo Si vedeva Che dovevo prendere gol È incredibile Te ne accorgi Qualche secondo Prima che devi Prendere gol Mamma mia Che bello Allora Calma Aspettalo Un po' di più Eh ma io sto cercando Di fare qualcosa Raga Ma non riesco Proprio a fare Un passaggio Me li intercetta tutti Questo è più forte Di quello di prima Regà Mamma mia Ma vaffa Ma ragazzi È che ci posso fare È impossibile Giocarci Credetemi È impossibile Cioè tu non hai Il passaggio Se giochi Contro questa persona Non ce l'hai Perché te le prende tutte Tutte quante Ma zero Zero di riporta Anche qua Ma non È nettamente Più forte Regà Non ci capisco niente Io sto ovviamente Arrugginito Perché ho giocato 20 partite In un mese È così Raga Quando becco Troppo se becco questi Devo soffrire Dai Dai Ma va C'è Raga Ma non mi prende Le crocche interrotte Non mi prende Un cavolo Non mi prende Non si Grazie a tutti. Mazza che spettacolo. Vola, vola letteralmente. Grazie a tutti. Grazie. 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 E' così Fa proprio un'altra velocità Io non riesco a fare cose così veloce oggi Non so perché Ci saranno tre minuti di recupero Complimenti Complimenti E' più forte regà Quando è più forte si fanno i complimenti E' una cosa importante da fare Perché altrimenti Non si può mai migliorare Se non si fanno i complimenti agli avversari E' inutile rosicare Si fanno i complimenti e basta Qui sarà una posizione molto alta Ovviamente 700 Secondo me doveva essere 50 20 Top 20 Doveva essere top 30 Gioca come tanti top 20 Top 30 che conosco Può essere pure che io sto molto rallentato Perché oggi per me non è giornata Quindi sto molto 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 rallentato E pazienza Bisogna accettare le sconfitte Si mostrano anche le sconfitte Per oggi ci fermiamo Perché altrimenti ne perderei ancora 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 Lo so Conosco il gioco Ho una certa esperienza su questo videogame Quindi so Che se le cose vanno così Bisogna Immediatamente E dico immediatamente Senza indugiare Fermarsi fino al giorno dopo Questa è una regola fondamentale Altrimenti Se io adesso continuo a giocare Ne verdo due Tre Quattro Cinque Sei di fila Mi retrocedono in divisione cinque Cose assurde Perché il gioco porta a questo Quindi Mentre domani Continuiamo E vedrete che Da domani Pam 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 Si vince Si torna in 3 2 1 Oggi Non è giornata Quindi ci fermiamo Facendo i complimenti all'avversario Che è una cosa Come già detto Importantissima Bene ragazzi Io direi che per questo contenuto Può bastare così Prima di salutarci Ovviamente rispondo alla domanda Che mi sono posto all'inizio Il gameplay è cambiato Per me Assolutamente no È sempre uguale Se ho perso queste partite Cioè una pareggiata E una persa Queste partite Ovviamente Non è perché il gameplay è diverso Anzi È uguale Ma è perché io Evidentemente Sono incoglionito Stamattina Bisogna sempre Mettere in condizione Il proprio stato mentale e fisico Perché È quello effettivamente Che fa la differenza E anche perché Gli avversari erano molto molto forti E come già detto Gli faccio tanti tanti complimenti Voglio ribadire Il concetto fondamentale Quando succede questo Indipendentemente Se è per colpa del gioco O per colpa vostra Vi dovete fermare Fino al giorno dopo Altrimenti Poi grazie al cavolo Che dite Eh mi hanno retrocesso In divisione 5 Ma sono in divisione 1 È normale Il gioco porta a questo Fermatevi E continuate Il giorno dopo E comunque no ragazzi Secondo me il gameplay Come non faceva schifo prima Non fa schifo nemmeno adesso Dopo l'aggiornamento Anche perché Come già detto Non è cambiato Secondo me non ci sono state modifiche Al gameplay Sicuramente Si deve migliorare Si deve migliorare l'albitraggio Si deve migliorare tante cose Non inserisco Non inserisco lo script Nel gameplay Perché penso che lo script Sia una cosa a parte Che Konami manco ammette Quindi è inutile dire Eh per fare il gameplay bello Devono togliere lo script Non lo faranno mai Ragioniamo un attimino Sulle cose che potrebbero fare Quindi con l'albitraggio Migliorare la fluidità I passaggi Un po' meno di quel cavolo di L2 Che mi manda ai matti Anche se sono sicuro Che non era dovuto Questo grande L2 Che si è visto Nella seconda partita di oggi Non era dovuto Dovuto a una modifica del gameplay Ma proprio al fatto Che il cristiano Comunque è giocato Era fortissimo Nell'utilizzarlo Comunque Dai Per me Non fa schifo Questo è quanto Io come sempre Vi ringrazio Per essere stati mia compagnia Noi ci vediamo al prossimo video Un abbraccio Un saluto Alla vostra SimoPlay Bella ragaz